Ancora sangue sulle strade sarde. A perdere la vita in un tragico incidente è accaduto attorno alle 17 sulla strada provinciale 10M nei pressi di botti da un motociclista, mentre è rimasta gravemente ferita la moglie che viaggiava con lui. In corso di accertamento le cause del sinistro. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che purtroppo hanno dovuto constatare il decesso dell'uomo. La donna è stata a soccorsa e trasferita in codice rosso nell'ospedale Santissima Annunziata di Sassari in elicottero. I vigili del fuoco di Bona hanno messo in sicurezza la moto e la strada. I carabinieri hanno eseguito i rilevi di legge e stanno ricostruendo l'esatta dinamica dell'incidente.